Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di romanzi del passato. Oggi parliamo di un libro di racconti assolutamente straordinario ed è questo qua. La prima raccolta di racconti di Carver, Vuoi star zitta per favore? Pubblicato da Einaudi. Questa inquadratura un po' strana ve la motivo subito. Di solito si fanno i video della libreria, cioè i libri che uno possiede. In questo caso qui è il contrario. Da dentro la libreria io filmo questa cosa qua. Ma in realtà perché questo? Perché volevo cogliere questa luce così assolutamente vibrante che c'è adesso. Semplicemente è il tramonto che passa attraverso alberi nel vento. E quindi un'atmosfera molto giapponese. Comunque, prima di dire un attimo di questo libro, volevo appunto collegarmi a quella che forse è stata... Senza forse sicuramente la prima recensione che io ho fatto tanti anni fa, a vent'anni, di questo libro qui. E l'ho fatto su questa rivista qua che era Super Tranquillo, di cui ho anche parlato in un video qui sul canale che si chiama Le cose che G.P. mi ha detto di Andrea Pazienza. E in questo Super Tranquillo avevo fatto questa rubrica che è Libri giudicati dalla copertina. E quello che vi vado a leggere era questa biografia di Carver. In realtà la biografia c'è al trona perché poi negli anni ho capito che un paio di informazioni che davo sono anche sbagliate. Comunque, avevo scritto questo. Vita di Raymond Carver. Nasce nel 1938 a Yakima, nello stato di Washington. Suo padre fa legname, sua madre cameriera. A vent'anni Carver aveva già due figli. Ma ciao! Sposa la madre dei suoi figli e va a fare il portiere di notte all'ospedale. Un lavorone. Dai ventinove anni e trentanove, giustamente, si dedica all'alcolismo. Conduce a una vita di normale lavoratore e padre di famiglia. Ruba tempo alla routine per scrivere i primi racconti, solo per sé. Scrive di notte al lavoro, oppure chiuso in garage, sul tavolo in cucina, nella macchina parcheggiata. Fin qui tutto vero. Si laurea e comincia ad insegnare allo Yowa Writer's Workshop. Lì conosce una poetessa bella e affascinante, di nome Tess Gallagher. Quindi abbandona la moglie, che era un donnino. Ecco, donnino, non lo so, è per dire donna piccola, di bassa statura, ma chissà perché scrissi così. Probabilmente non ho mai appurato. Quindi abbandona la moglie, che era un donnino. Nel frattempo era diventato famosino, poi famosissimo, grazie ai suoi racconti. Muore a 50 anni, nel 1988, bruciato dall'alcolismo acuto. Ecco, questo non è vero, non è morto bruciato dall'alcolismo, è morto per altre complicazioni, per una patologia fondamentalmente. Per tutta la vita ha scritto racconti brevi, poesie e neanche un romanzo. Considerato minimalista, intimista, non accetto mai nessuna etichetta affibbiatagli. I suoi scritti provenivano da un'urgenza che andava oltre gli stilosismi e i generi. Va bene, dopodiché c'era delle sinossi e dei racconti, che ora li tralasciamo perché sarebbe ancora una cosa troppo lunga. E poi alla fine c'era questa parte sulla copertina, su questa prima edizione Garzanti, con un commento finale che diceva, appunto, la copertina, c'è un collegamento diretto tra il titolo del libro e l'immagine? Questa ragazza sta ballando o forse manda a fangulo qualcuno? Forse l'unico problema è che può ricordare un po' Woodstock, o comunque i figli dei fiori, che nel testo non compaiono mai. Quindi, tornando a noi, tornando appunto a questo, a Voestazitta, per favore, titolo che forse verrà cambiato da questa cancel culture, che vuole un certo tipo di rispetto formale sulla donna, e poi prima o poi lo vorrà anche sull'uomo. Quindi questo titolo io penso che verrà cambiato. Lasciatemi essere profeticuzzo. Ma purtroppo questa è una realtà che sta toccando film, libri, eccetera. Un po' immagino che lo sappiate. E ora, in questo momento, ciò che mi sta preoccupando è che il sole è un pochettino calato e forse non tornerà più di così. Allora, al di là del fatto che questa penombra possa piacervi oppure no, io vi dico che, in sintesi sintesissima, la cosa bella di questo libro di racconti, del buon Carverino, è che ci sono istanze autobiografiche. Quindi è come se lui, partendo da spunti personali, autobiografici, facesse delle emanazioni di se stesso e quindi trasmigrasse elementi personali su tutti questi personaggi che spesso stanno vivendo un rapporto di coppia molto in crisi, come aveva vissuto lui, che spesso hanno problemi di alcolismo, come lui, che hanno lavori precari, che stanno cambiando lavoro, come lui. Lo stile, appunto, minimalista è stato una via di mezzo tra, diciamo, il suo stile originale, cioè che non era proprio questo minimalismo così sfurenato, però l'incontro con questo editor Gordon Leash che cominciò a tagliare alla brutto Giuda le sue frasi fino ad ottenere questo minimalismo tanto famoso. E comunque, appunto, nel 1976 si considera che questo sia un po' l'origine del minimalismo americano che poi poi andrà avanti negli anni fino ad arrivare ai suoi versanti più giovanili e glamour con British Stone Ellis, Jim McInerney, David Levitt, così. Un'ultima menzione, cioè, secondo me, di questi 22 racconti mi sembra che si chiama e guarda questa che è il racconto che comincia a pagina 172 e guarda questa che parla di una coppia ecco qui, mi ero segnato anche una piccola sinossica ora vi leggo questa è una cosa che mi ero scritto per me ma così e ora la rileggo per voi quindi, e guarda questa gran racconto una coppia che ne ha per i marroni vede una casa in affitto no, scusate, vede una casa in vendita lei è una pittrice lui è uno scrittore e attore musicista lei parla della sua infanzia che voleva fare l'acrobata sono in crisi come coppia come in ogni racconto di Carver forse un capolavoro bene mi sa che il sole dolcissimo non torna più e ci sono anche rumori qua in casa telefonate che vanno e vengono quindi io a questo punto vi ringrazio e vi auguro una bella buonanotte ciccetti a presto